In che condizioni siamo? Non è fatto però Noni, ma non è fai che il brazo Non è fai che brazo Non è fai che Non è fai pepito Non è fai pepito Non è fai pepito Non è fai pepito Vengono, vengono, vengono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.